K44 risponde un contenitore per chiarire i dubbi del trasporto questo episodio di K44 è realizzato in collaborazione con Continental VDO il vostro partner per le sfide di domani come abbiamo ampiamente scritto ormai su trasporto Europa e uomini e trasporti il 2 febbraio c'è stata come dire la prima fase di applicazione per quanto riguarda il 2022 del primo pacchetto mobilità che riforma l'autotrasporto internazionale in questa prima fase c'è stata un'importante introduzione che riguarda il cabotaggio ossia la possibilità di svolgere un trasporto in un paese estero nell'ambito di un autotrasporto internazionale è una novità che riguarda il cronotachigrafo ossia l'obbligo di inserire nel cronotachigrafo il paese in cui si entra poco dopo l'ingresso del paese sembra una cosa apparentemente semplice Daniele ma evidentemente non è così perché insomma ci sono arrivate in redazione diversi quesiti su questo argomento certo e non saranno arrivati soltanto a noi perché due giorni dopo che è entrato in vigore questo regolamento anche lo stesso ministero dell'interno ha sentito il bisogno di diffondere una circolare in cui ha chiarito tutta una serie di aspetti di delucidazioni di dubbi praticamente che insomma in qualche maniera rendono un po' più certa l'applicazione di questa di questa disposizione per fare altrettanto cioè per sciogliere anche noi molti dubbi che sono che sono suscitati da questa normativa a tanti nostri elettori e abbiamo in qualche modo raccolto insomma fatto una specie di collazione di tutti quanti tutti gli inquisiti tutti gli interrogativi che ci sono arrivati e oggi li giriamo a Paolo Moggi che è il responsabilità qualità sicurezza e ambiente e formazione anche del gruppo Feder Trasporti insomma che ci aiuterà in qualche modo a fornire una risposta. Allora la prima domanda che ci pone tal Marcello e che fa un po' riferimento a quello che già specificava a Michele che in fondo questa disposizione sull'inserimento del paese nel passaggio di frontiera cioè nel senso di avere praticamente il tachigrafo con l'indicazione del paese in cui si sta lavorando insomma era una cosa che esisteva da tempo insomma tutti quanti ci hanno detto anzi in maniera particolare Marcello dice ma questa funzione del tachigrafo esiste già da una decina d'anni cosa è cambiato ecco vogliamo rispondere a Marcello e anche tutti gli altri che invece anzi hanno posto la domanda diversamente ma praticamente la sostanza è un po' la stessa. Sì certo Daniele la regola c'era già prima prevedeva che l'autista dovesse cambiare il simbolo del paese all'interno del proprio tachigrafo al momento della prima sosta che poteva avvenire anche qualche ora dopo l'attraversamento della frontiera il pacchetto mobilità è andato a restringere questa possibilità dando un'indicazione puntuale e il cambio del paese deve avvenire al momento dell'attraversamento della frontiera alla prima sosta ma che questa sosta deve essere la più vicina alla frontiera e questo perché l'avvento dei tachigrafi intelligenti che cambiano il paese in maniera automatica in quanto sono dotati di localizzatore satellitare devono poi arrivare anche i tachigrafi precedenti di prima generazione avere un po' la stessa gestione e anche per fare controlli più puntuali sull'attraversamento da parte degli autisti nei paesi UE peraltro questa disposizione vale quindi per i tachigrafi diciamo digitali ma per quelli analogici se mai esiste qualcuno che insomma fa trasporti internazionali con un veicolo dotato di tachigrafo analogico esisteva già questa disposizione? è sempre esistita già dal regolamento 3820 e 21 no no però esisteva anche l'obbligo di aggiornamento manuale? sì sì esisteva già adesso chi va all'estero poi ci saranno i pacchetti mobilità che entreranno in vigore quindi all'estero ci andranno solo veicoli con tachigrafo intelligente ecco una domanda un po' più complessa viene da Pietro che fa trasporti internazionali lui lavora in Belgio in realtà parte dal Belgio la notte e dice io ogni sera parto per la Germania faccio circa 220 chilometri e poi scambio il rimorchio e torno indietro e in questo viaggio di ritorno attraverso l'Olanda per 25 chilometri allora lui chiede ma nonostante questo breve attraversamento dell'Olanda devo comunque fare il cambio del paese due volte perché poi ovviamente Germania-Olanda e poi Olanda-Belgia ahimè sì la regola è semplice da questo punto di vista ogni attraversamento di frontiera il paese deve essere cambiato nel tachigrafo quindi anche per pochi chilometri l'obbligo rimane diciamo che Pietro che faceva questa domanda era anche particolarmente critico insomma gli sembrava anche una perdita di tempo però se questa è la normativa insomma come dire in qualche modo ne prendiamo atto insomma invece Mirko dice una cosa come dire anche lui abbastanza non so se critico comunque il tachigrafo intelligente registra anche la geolocalizzazione e stampa le coordinate del luogo nella stampata malgrado tutto questo devo ugualmente mettere il paese al supervento del confine? Il tachigrafo intelligente proprio per il fatto di avere il localizzatore satellitare il cambio è in automatico quindi l'autista non deve fare alcuna operazione manuale perché proprio il tachigrafo intelligente lo fa in maniera automatica Ok quindi viene sollevato praticamente chi ha un dispositivo di questo tipo insomma Ermanno fa una domanda sulla punto in cui inserire il cambio di paese e lui dice ma se invece che nel primo posto dove posso fermarmi in sicurezza utilizzo per praticità il secondo per esempio magari perché è più comodo perché c'è anche un ristorante dove fermarmi o dove posso fare una pausa ecco va bene lo stesso oppure rischio la sanzione in questo caso? Purtroppo si rischia la sanzione perché il regolamento prevede proprio che all'attraversamento alla prima sosta che deve essere la più vicina alla frontiera come si diceva all'inizio il ministero dell'interno è intervenuto pochi giorni fa con una circolare che ha dato delle istruzioni operative sia agli operatori di pulizia ma di conseguenza anche agli autotrasportatori proprio andando un po' più nel concreto dicendo che deve essere fatto questo cambio paese a veicolo fermo non prima dell'attraversamento alla prima sosta possibile dopo la frontiera che può essere un autogrill, un'area di parcheggio ha fatto proprio gli esempi specifici ma non una piazzola di emergenza nel senso qui ha voluto il nostro ministero dire la prima sosta perché il veicolo sta in sicurezza Ok poi abbiamo due domande che praticamente sono anzi è quasi una conversazione tra due autotrasportatori cioè nel senso che Francesco dice semplicemente per Malta si deve fare pure e Tommaso risponde ha ragione Francesco se salgo su un traghetto quando devo inserire il passaggio di frontiera nel senso il traghetto che va per Malta insomma immagino facessi riferimento a questo caso Qui la norma anche qui è abbastanza semplice prevede che il cambio va fatto all'arrivo nel porto o nella stazione proprio di arrivo quindi quando il traghetto attracca o il carro ferroviario arriva in stazione è il momento in cui l'autista ha l'obbligo di premere il tastino e fare il cambio paese Quindi esattamente nella stazione ed esattamente nel porto se attendo un attimo e faccio per uscire dal porto in quel momento sono già sanzionabile? Stando alla normativa nero su bianco capisco che sono pochi minuti però sì sei passibile di sanzione Forse non l'abbiamo ancora detto a quanto ammonta la sanzione? Allora il regolamento come sappiamo i regolamenti UE come sappiamo sono direttamente applicabili in ogni stato UE senza alcun bisogno che ogni stato faccia il recepimento a differenza della direttiva poi ogni stato mette le proprie sanzioni l'Italia nella circolare che ho ricordato poco anzi applica una legge residuale la 727 del 1978 che sanziona per uso corretto del tachirco pari a 52 euro come facendo un paragone come se ti mancassero i tre rotolini di carta altri paesi applicano altre sanzioni anche molto più molto più pesante la Francia per esempio si aggira intorno a 700 euro per una una infrazione di questo tipo differenza notevole insomma l'Italia ha un po' le sanzioni più basse rispetto su materia di tachigrafi e di periodo di guida di riposo ha le sanzioni in media più basse rispetto agli altri paesi della UE anche se in alcune situazioni l'Italia applica la sanzione accessoria da sospensione della patente il cui costo tra virgolette poi è da quantificare state vedendo K44 risponde questo episodio di K44 è realizzato in collaborazione con Continental Video il vostro partner per le sfide di domani Senti Giovanni invece che viaggia con un con un altro autista evidentemente fa viaggi lunghi e non hanno tempo da perdere per le soste ci chiede ma quando siamo in due in cabina e facciamo il passaggio di frontiera il passaggio deve essere segnato con entrambe le carte degli autisti assolutamente sì il tachigrafo registra il cambio paese sia sul nella memoria di massa del veicolo sia nella carta del conducente questo è spiegato è motivato dal fatto che si collega al discorso dei riposi settimanali fatti all'estero che sono stati oggetto di modifica anche dal pacchetto mobilità con l'regolamento 1054 allora la domanda successiva ci devi un po' aiutare a interpretarla cioè nel senso che Claudio dice ma non basta la sera inserire il fine lavoro della nazione di fermata e poi mettere in pausa e tenere la scheda inserita nel tachigrafo e poi la mattina dopo inserire l'inizio lavoro nazione per essere automaticamente in regola su questo punto in questa domanda ci sono più domande alla prima domanda la risposta è no non può metterlo alla sera perché andrebbe in contrasto su tutto quello che abbiamo detto fino adesso il cambio paese era fatto al momento dell'attraversamento della frontiera quindi se lo attraversi ad esempio a mezzogiorno e ti fermi alle 17 non hai ottemperato la nuova regola capendo il quesito che ha fatto l'ascoltatore alla sera alle 5 quando ha finito il suo tra virgolette impegno chiude il fine lavoro in modo che il tachigrafo registra che ha terminato l'attività con la nazione fine deduco dalla domanda che lascia la tessera inserita perché dorme sul veicolo e quindi può utilizzare il tachigrafo e quindi è concesso di lasciare la carta tachigrafica inserita nel tachigrafo il giorno dopo alla ripresa dell'attività tra virgolette apre si dice un po' in gergo tecnico la giornata lavorativa ovviamente in questo caso non deve fare nessun cambio paese perché il cambio paese è già stato memorizzato quindi alla prima risposta alla prima domanda la risposta non può metterlo la sera se lo mette all'inizio del traversamento della frontiera permane fino a quando non esce dalla del paese in cui è entrato certo scusa una puntualizzazione in base a quello che hai detto cioè alle 12 alle 17 lo fa cioè nel senso che comunque la sanzione scatta anche semplicemente per un fattore temporale cioè nel senso che anche mezz'ora dopo cioè nel senso che esiste un profilo di responsabilità anche in relazione al ritardato inserimento del paese sì ovviamente dipende quando viene effettuato il controllo per spiegarmi meglio faccio faccio un esempio ovviamente il controllo deve avvenire nella stessa giornata perché altrimenti non si perdono un po' i tempi faccio un esempio un autotrasportatore italiano lavora in Francia arriva a mezzogiorno a 20 miglia attraversa la frontiera in quel momento come abbiamo detto dovrebbe fare il cambio il cambio paese non lo fa ma lo fa quando arriva a la Spezia perché si ferma o perché ha finito la sua attività ovvio che se nel nel tragitto da 20 miglia alla Spezia viene fermato dalla dell'autorità e in base alle strisciate in base ai chilometri si vede che non ha cambiato subito il paese ovviamente è sanzionabile una domanda che mi viene in mente proprio sui controlli rispetto a quello che hai appena detto quindi in concreto la verifica che venga fatto questo cambio paese in sostanza può avvenire solo su un controllo su strada nel senso che invece nel caso di un controllo successivo in azienda penso che sia difficile se non addirittura impossibile verificare che siano stati correttamente fatte queste queste registrazioni in pratica in pratica sì controlli posteriori per quanto riguarda ovviamente i tachigrafi di prima generazione diventa difficile quantificare o individuare quando è avvenuto il cambio paese si potrebbe arrivare con l'incrocio di documenti di trasporto ma la vedo veramente complicato allora parlo la domanda conclusiva la domanda delle cento pistole insomma in buona sostanza qual è la ragione per cui effettivamente l'Unione Europea ci tiene così tanto a sapere il momento preciso in cui un camion oltrepassa una frontiera nell'ambito di un trasporto internazionale allora la risposta è su tre su tre livelli la prima è per allineare e quindi non creare disparità tra tachigrafo intelligente che lo fa in automatico e tachigrafo di prima generazione che il cambio paese è manuale il secondo livello è per avere un controllo più puntuale degli ingressi nei paesi anche connessi alla regola del riposo settimanale fatto all'estero da conducenti di un altro paese perché il pacchetto mobilità ha cambiato questa regola nell'agosto del 2020 un trasportatore estero che fa un riposo settimanale in un altro paese ne può fare anche due consecutivi ridotti ma nell'arco di quattro settimane un riposo settimanale lo deve fare nel paese di stabilimento dell'impresa o alla sua residenza e ovviamente un cambio di paese puntuale permette anche di calcolare i tempi i riposi settimanali degli autisti quando rientrano presso la residenza o presso la sede dell'impresa il terzo il terzo motivo è collegato alle regole del capotaggio il pacchetto mobilità è andato a ritoccare la regola sul capotaggio inserendo il periodo di raffreddamento ovvero che dopo una o più operazioni di capotaggio fatte da un paese in un altro paese dopo il massimo tre trasporti e entro sette giorni deve uscire questa è la regola che c'è sempre stata ma è stato aggiunto un periodo di raffreddamento di quattro giorni ecco che per calcolare esattamente l'ingresso o l'uscita e il calcolo del periodo di raffreddamento deve esserci una registrazione puntuale del cambio paese senti in questa risposta hai dato una serie di spunti che adesso come dire aprirebbero dei nuovi episodi di K4Quandro ce li appuntiamo anzi invitiamo i nostri ascoltatori eventualmente ad approfondire hai fatto due spunti uno sul relativamente ai riposi nell'ambito del trasporto internazionale poi l'altro sul capotaggio che sono come dire due filoni discorso che in una qualche maniera dovremo prima o poi prendere in considerazione io direi che con questo impegno possiamo andare a ringraziare Paolo Moggi che è il responsabile di qualità sicurezza ambiente del gruppo Feder Trasporti Michele Latore e Daniele Di Ubaldo vi danno come al solito appuntamento al prossimo martedì per un nuovo videocast e vi ricordano anche che comunque il giovedì trovate in rete i nostri podcast buona strada a tutti questo episodio di K44 è realizzato in collaborazione con Continental VDO il vostro partner per le sfide di domani K44 risponde vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo episodio è una produzione Trasporto Europa e Uomini e Trasporti che è realizzato per le sfide